Notte brava per quattro giovani moldavi che hanno confessato di aver rubato in due imbarcazioni al porto di Fano, il motopesca Tartan e la barca Bonfai X ormeggiate alla banchina numero 13. I ragazzi, tra cui un minorenne, raccontano di aver agito giovedì sera intorno a Luna senza rendersi conto di quanto stavano facendo perché erano ubriachi. Ad accorgersene però è stata il giorno successivo la sorella di uno di loro che oltre ad aver ritrovato la merce rubata nell'auto di sua proprietà ha notato l'appello lanciato dall'armatore e dal comandante del motopesca Tartan affinché gli venissero restituite almeno le autorizzazioni necessarie alla pesca. Oltre ai documenti però, i ladri avevano portato via anche due monitor, i computer di bordo e attrezzatura varia per un danno complessivo di circa 30.000 euro. L'appello del comandante era stato raccolto anche dalla nostra redazione. Alla gente magari si trova questa borsa rossa con i documenti o anche documenti vari sparsi in giro con cose dai, la motopesca è motopesca Tartan e sono cose importanti per noi che poi ci vuole molto tempo e finché non avremo questi non possiamo uscire in mare. Ci sono cinque famiglie che lavorano a bordo e bisogna stare a casa. Il giorno successivo all'intervista, la donna di nazionalità moldava da tempo residente a Fano ha contattato Vergoni sui social network e tramite lui l'armatore Antonio Gaudenzi. L'intento era quello di restituire la merce rubata. Da questo contatto i carabinieri di Fano hanno sviluppato una serie di accertamenti di servizi di pedinamento con l'ipotesi che questa donna potesse essere coinvolta direttamente nel furto. Il primo incontro con l'armatore che è stato monitorato dai militari è avvenuto sabato sera alla stazione ferroviaria dove la donna ha restituito la borsa contenente la documentazione rubata. Poi la mattina di Pasqua i carabinieri in Borghese hanno pedinato la moldava mentre era in compagnia di altri tre giovani. I ragazzi hanno prima caricato sulla sua auto il resto della refurtiva e poi si sono diretti al porto dove hanno restituito l'attrezzatura rubata a Vergoni e a Gaudenzi. Pochi minuti dopo però i militari li hanno bloccati e identificati. Si tratta di due ventenni e un diciottenne residenti a Fano. Dalle indagini successive è stato rintracciato il quarto componente del gruppo che aveva partecipato al furto, un diciassettenne residente in città. I giovani che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica e a quella minorile hanno ammesso le loro responsabilità e per risarcire i danni provocati sarebbero disposti a lavorare a bordo del motopesca.